Spiaggia off limits. Questo lo scenario nella stragrande maggioranza del litorale riminese che con l'inverno alle porte vede molto difficile l'accesso dei cittadini all'arenile pubblico. Uno scenario abbastanza desolante con cancelli, barriere inferriate che anche se in un periodo in cui non si va al mare per la tintarella ma magari per fare jogging o una semplice passeggiata, limita un bene che dovrebbe essere pubblico e di libero accesso. Catenacci e cancelli che impediscono specialmente a chi ha una mobilità ridotta di poter godere di una vera e propria risorsa del territorio riminese, una risorsa che andrebbe sfruttata non solo in estate ma anche nei mesi invernali dove però la spiaggia sembra quasi solo un deposito di materiale di ogni tipo. E intanto l'amministrazione comunale prepara i primi controlli volti a verificare eventuali abusi in un periodo in cui la crisi del governo Berlusconi mette in ansia la categoria dei bagnini che attendevano una risoluzione a breve del problema concessioni demaniali per cui l'Italia risulta in infrazione per l'Unione Europea a causa della direttiva Bolkestein che punta ad una maggiore liberalizzazione del settore a scapito però delle loro posizioni acquisite. Si attendeva infatti una proroga delle aste pubbliche che ad ora sono previste nel giro di pochi mesi. Scenario quindi dai colori confusi con l'unica certezza che i prossimi mesi saranno oltre che freddi, molto difficili.